buongiorno a tutti sono roberta muriani consulente immobiliare remax stella colare oggi siamo a vitetto e precisamente in vico zernore attraverso di corso garibaldi e sono qui per presentarvi questa soluzione indipendente curiosi di vederla entriamo al piano terra ad accoglierci un'ampia zona living cuore pulsante della casa caratterizzata dal cammino angolare e dall'accesso alla cantina da qui si ha la possibilità di accedere la zona notte composta da due ampie camere matrimoniali completamente personalizzabili tre motivi per acquistare questa casa l'indipendenza la posizione e il prezzo per maggiori informazioni non esitare a contattarci vi aspetto grazie